hello everyone come va spero tutto bene oggi sono qui con un nuovo video gameplay e di video gameplay in questione è dedicato ad un videogioco targato outright games in occasione del progetto outright games ambassador di cui potete vedere tranquillamente la nostra cara di cucina in alto a destra ecco voi gigantosaurus dino sports gigantosaurus dino sports è un videogioco pubblicato da outright games sviluppato da infinion games e rilasciato il 28 giugno 2024 cos'è gigantosaurus dino sports? in realtà questa è veramente una bella domanda bisognava cercare un attimo di capire cos'è gigantosaurus dino sports è sostanzialmente un party game dedicato a gigantosaurus gigantosaurus per chi non lo conoscesse è un franchise cartoon molto cartoonesco dedicato a quello che è un mondo di dinosauri dove ci sono dinosauri bambini e ragazzini che passano le giornate a fare attività c'è un gigantesco dinosauro che è sostanzialmente un t-rex che è il guardiano e altri che girano zompetta ne fanno cose gigantosaurus dino sports non ha una vera e propria narrazione i giocatori che sono che interpretano sostanzialmente i quattro personaggi principali della serie ovvero mazu Rocky, Bill e Tiny lo scopo è quello di affrontare dei giochi sono otto giochi per i giganto games un evento dedicato a giganto che è appunto questo tirannosauro è sostanzialmente un party game è un party game pensato per essere giocato da soli oppure in multigiocatore locale fino a quattro persone lo scopo è quello di affrontare appunto le varie le varie partite le varie avventure e alcuni di questi sport che vengono proposti sono in realtà piuttosto carini e piuttosto interessanti c'è per esempio uno che è una rilavorazione del triathlon un altro che è una rilavorazione della scalata e oppure uno dei miei preferiti è quello di unduta stella che secondo me è molto interessante proprio per come viene approcciato è molto carino secondo me tutto questo quindi tutti questi minigiochi vengono collegati tra di loro all'interno di una grande storia che viene chiamata la storia chiamiamola proprio così l'obiettivo appunto di giganto games che ha l'obiettivo di prendere il super ananas giganto ovviamente tra almeno nella modalità principale che appunto ha giganto games tutti i vari minigiochi saranno collegati da degli intermezzi narrativi in cui principalmente non andremo tanto ad esplorare mazuro, occhi, bill e tiny andremo a vivere una coppia di personaggi che è piuttosto nota come i burloni quelli che causano problemi all'interno dell'abitazione dei gigantosaurus che vogliono prendere questo ananas e causeranno dei problemi la storia sostanzialmente in realtà si concentra su di loro rispetto a mazuro, occhi, bill e tiny che non hanno una vera e propria rilevanza da questo punto di vista questo dobbiamo ammetterlo mazuro, occhi, bill e tiny in questo gioco qui hanno veramente poca rilevanza e questo è in realtà piuttosto strano però è un elemento da tenere in considerazione i minigiochi sono tutti interessanti più che altro perché sono piuttosto diversi tra di loro alcuni tra l'altro hanno un elemento di difficoltà che risulta più alto rispetto a quanto avrei creduto mi aspettavo gigantosaurus come il classico videogioco outright games quindi quello pensato proprio per un pubblico di bambini ed effettivamente lo è però tende a fare uno spunto ulteriore quindi ti propone delle meccaniche, pochi comandi, si usano principalmente due o tre pulsanti per capirci lo scopo è soprattutto quello di essere semplice ma non così tanto trova una via di mezzo secondo me che è ottima, outright games dovrebbe segnarsi questo prodotto per quanto mi riguarda proprio per il fatto di avere un'ottima gestione del livello di sfida quindi per esempio c'è il gioco dei tuffi, il gioco dei tuffi ero già pronto ad aspettarmi il classico mini gioco outright games dove bisogna premere dei pulsanti, due pulsanti in croce per risolverlo che effettivamente è vero tranne dei punti dove proprio i pulsanti vanno tutti premuti a un ritmo molto frenetico e poi questo non me lo aspettavo, mi ha molto incuriosito da questo punto di vista una volta che avete affrontato la modalità principale che chiamiamola la modalità storia, quella che vi farà affrontare gli otto giochi nella pratica dei fatti voi in realtà avrete fatto tutto esistono le sfide le sfide sono sostanzialmente gruppi di minigiochi che vengono messi insieme avrete 4 minigiochi per sfida che vengono messi in blocco il vostro obiettivo è quello di fare tutto al 100% e poi ci sono delle modalità extra c'è un puzzle che secondo me non è granché interessante e soprattutto è un po' fuori contesto rispetto a quello che propone il gioco stesso oppure una modalità custom in cui potete scegliere tutti i miei giochi e creare il vostro set da 1 a 10 interessante notare che esistono i record questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari per voi la difficoltà sarà molto facile magari eh però il fatto di avere il record vi incentiva a ritornare sul minigioco e migliorare il vostro punteggio che in alcuni è molto interessante in alcuni andare ad aumentare il punteggio incentiverà molto quello della scalata in particolare secondo me è il miglior minigioco in merito proprio perché va a incentivare il punteggio avrei preferito e quando non lo nascondo una classifica online però posso capire perché non sia stata presentata Outlet Games d'altronde ha un pubblico molto preciso di riferimento e quindi di conseguenza vengono fatte determinate scelte anche dal punto di vista della gestione dell'internet la cosa che mi piace di più di questo gioco è appunto il livello di sfida e come vuole incentivati a rigiocarlo quindi il fatto di avere dei minigiochi che non sono troppo semplici ma quindi c'è un buon insieme tra livello di sfida e semplicità questo connubio di informazioni che è molto carino secondo me accompagnato a questo secondo me c'è anche proprio l'elemento di gioco che va a proprio dei record che è un ottimo strumento per rigiocare i titoli gli elementi negativi allora in realtà secondo me c'è solo un grande elemento negativo no in realtà ce ne sono due il primo elemento negativo personalmente è un discorso non tanto di gameplay di alcuni punti anche se va detto tipo per esempio in 1,2,3 stella il gioco è molto poco punitivo ed è molto facile fare cose anche quando il giocatore non dovrebbe farle e dovrebbe essere segnato la cosa che va maggiormente notata è che una volta che avete affrontato la modalità principale che sono appunto gli 8 minigiochi in ordine non è che abbiate chissà quanto non nascondo che i team di sviluppo avrebbe sicuramente potuto gestire i giochi in maniera molto diversa e gestirlo invece come se fosse proprio una carrellata a cui potevano essermessi le varie minigiochi in modo più o meno casuale in modo più o meno voluto con più minigiochi il fatto di avere 8 minigiochi mi dispiace ma non mi permette di giustificare il prezzo di lancio che è 39,99 8 minigiochi mi sembra molto poco purtroppo questo lo devo dire una cosa che va detta è un discorso dei personaggi ora qual è il punto che voglio fare da questo elemento? si giocano qua mazzurocchi billetani che sono i protagonisti che sono i protagonisti però non hanno realmente un elemento narrativo importante cioè sono i protagonisti perché sono i protagonisti del franchise di Gigantosaurus però qui se vi fossero stati messi altri personaggi io trovo che il gioco sarebbe funzionato tranquillamente e comunque quello che io vorrei e io spero che queste mie parole arrivino ad Outright Games io vorrei che venisse fatto un videogioco non tanto sui protagonisti dei Gigantosaurus quindi mazzurocchi billetani ma io lo vorrei fare su quelli che sono sostanzialmente gli antagonisti di questo videogioco che sono quei due veloci raptor che vedete sullo schermo uno verde e l'altro rosso perché io non vi quando davvero non vi sto prendendo il giro mi hanno fatto ridere mi hanno fatto ridere perché hanno degli ottimi tempi di ritmo di narrazione quando devono fare delle battute o comunque si mettono in situazioni di pericolo hanno degli ottimi dialoghi tra di loro secondo me funzionano molto bene proprio come coppia di personaggi e secondo me ora io non so quanto vengono usati nel franchise di Gigantosaurus questo lo devo ammettere sanno un po' di scratch del cioè sono molti hanno molto il sapore di scratch dell'era glaciale hanno molto il sapore del ladro né il ladro di ciabattino è una coppia di personaggi cattiva perché sostanzialmente qua fanno i ruoli degli antagonisti che però funziona molto bene perché loro qua appunto lo vediamo fanno poi cadere l'ananas lo devono andare a recuperare il fatto che uno di loro sostanzialmente fa una parodia e prende in giro quelli che fanno la telecronaca cioè queste sono cose molto belle mi piacciono molto queste relazioni queste interazioni che sono gestite molto bene secondo me io vorrei che Outright Games pubblicasse un videogioco su Gigantosaurus basato soltanto su loro due come protagonisti e io sono convinto che se mantenessero questo ritmo narrativo cioè proprio questo elemento narrativo comico di loro che sostanzialmente si insultano tanto viene detto anche da loro che si insultano che smesticciano è secondo me eccezionale eccezionale cioè io sui Gigantosaurus hanno fatto se non sbaglio tre videogiochi con questo sui Gigantosaurus questo è il primo videogioco del franchise Gigantosaurus Starcata Outright Games dove ci ho visto la perla del genio qua ci ho visto la genialata che è lì è lì c'è proprio la scintilla è lì costante la scintilla come due pietre che continuano a stritolarsi tra di loro che continuano a muoversi a fare ciacche ciacche e fanno le scintille ma non esce ancora il fuoco davvero questa è veramente una cosa chi non c'entra molto col gioco in realtà lo so perfettamente però è proprio un elemento anche narrativo che funziona molto bene che deve essere continuato questo elemento di narrazione deve avere assolutamente un continuum Gigantosaurus Dino Sports quindi alla fine della fiera cosa posso dire? secondo me è un ottimo gioco ma non è un ottimo gioco in relazione al prezzo è sicuramente un titolo molto semplice come sempre tutti i giochi Outright Games sapete proprio qualche eccezione specifica hanno un obiettivo di target basso e questo ci sta è tranquillamente comprensibile i comandi che vengono proposti negli otto minigiochi sono estremamente semplici estremamente funzionali è un titolo anche che cattura molto cioè completare la storia richiede mezz'ora un po' poco? forse sì però appunto abbiamo detto che sono otto minigiochi ci sono anche delle idee dal punto di vista di meccaniche secondarie ci sono le sfide ci sono dei puzzle però secondo me per come sono pensati è tutta roba che il giocatore una volta che ha giocato il titolo non ha vero interesse a recuperarle Cicantosaurus Dinosports secondo me spicca molto quando si vanno a vedere i record quella è una cosa che funziona perfettamente bene dove non funziona bene? dove non funziona bene secondo me sono i personaggi giocabili che sono soltanto quei 4 litri non hanno neanche un ruolo narrativo e il fatto che non abbiano un ruolo narrativo a me personalmente fa molto strano e il fatto che siano otto minigiochi questi due elementi non mi permettono di giustificare il prezzo di lancio che è 39,99 però uno sconto lo terrà in considerazione uno sconto lo terrà in considerazione io vorrei che da Gigantosaurus Dinosports saltasse fuori un altro prodotto Gigantosaurus dedicato agli antagonisti di questo gioco che appaiono in questo gioco perché secondo me davvero può saltare fuori qualcosa di estremamente figo qualcosa di estremamente bello che meriterebbe di essere assolutamente giocato secondo me Twilight Games ha in mano una gallina dalle uova d'oro che non sa nemmeno lei stessa di avere in mano ho proprio questa sensazione e spero che appunto rielaborino le idee che hanno avuto in questo titolo per un prossimo progetto questi sono i miei pensieri di Giovanni di Gamescore.it Gamescore.it è il sito che tratta news e recensioni di videogiochi giochi a Taudo altri periferi che trattiamo veramente un sacco di cose se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un mi piace e dico di video e dico da sotto i canali social preferiti e noi due ci vediamo in un prossimo video stammi bene ciao ciao